Nell'ambito dell'iniziativa Corto e Mangiato siamo qui alla presenza del sindaco di Isola del Piano, Paolini, e di Girole Moni, presidente dell'omonima cooperativa, diciamo, ex Salce Nero. Ecco, allora chiediamo al sindaco, questa iniziativa è molto valida, peraltro ha come oggetto un tema veramente molto sentito, perché l'acqua è effettivamente un bene che sta diventando sempre più prezioso, invece dovrebbe essere un bene alla portata di tutti. Indubbiamente, diciamo che il tema che è stato toccato quest'anno è stato scelto proprio per l'importanza che ha in questo momento l'uso e il consumo e lo spreco di acqua in tutto il territorio nostro e anche a livello mondiale. Se poi andiamo a considerare che ci sono regioni e nazioni che sono completamente assetate e che l'acqua che noi utilizziamo potabile è solo lo 0,4%, ci rendiamo conto che dobbiamo stare un po' attenti allo spreco e all'uso che facciamo dell'acqua, per cui sensibilizzare anche i giovani con questo e i formati che sono arrivati e ne sono la testimonianza è un po' la missione sia delle scuole che anche delle amministrazioni che lottano sempre perché l'acqua torni veramente ad essere, rimanga un bene pubblico e non privato. Io su questo mi sento di essere in prima linea nella lotta su queste cose. Sta cambiando qualcosa in tal senso o c'è sempre questa grossa spinta verso il privato dell'acqua? Ma diciamo che noi nelle nostre zone siamo ancora come pubblico, siamo ancora proprietari di quote di maggioranza però è naturale che l'ingresso dei privati, la sempre maggiore difficoltà che hanno le amministrazioni nel far quadrare i bilanci c'è il rischio che insomma di vendere un tesoro per due baiocchi ecco cosa che io vorrei che qui dobbiamo stare veramente attenti. Strettamente legato all'uso e all'abuso dell'acqua e la coltivazione tipo biologica come lei ha precisato nel suo intervento. Sì, ci teniamo molto a questa edizione di corto mangiato dedicata all'acqua proprio perché siamo consapevoli che l'agricoltura ha un ruolo fondamentale nell'utilizzo dell'acqua e negli sprechi d'acqua. L'agricoltura, due terzi, quindi più del 70% dell'acqua a livello mondiale è utilizzata in agricoltura quindi è da lì che bisogna partire e l'agricoltura biologica è appunto amica dell'acqua perché da una parte permette di mantenerne e di conservare le riserve idriche dall'altra aiuta a mantenere la qualità dell'acqua. In che modo? Conservare le risorse idriche grazie alla rotazione culturale. Noi non facciamo monocultura, alterniamo all'anno di grano un anno di una leguminosa o così per altre coltivazioni. Questo permette di avere una maggior fertilità del terreno, quindi un minore utilizzo d'acqua e anche una miglior struttura del terreno. Questo permette che quando piove il terreno ha una miglior struttura e non viene persa acqua. L'altra cosa è che non utilizzando concimi chimici di sintesi, fertilizzanti e pesticidi nella produzione e nella coltivazione non andiamo a inquinare quelli che sono i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi e i ruscelli e anche non utilizzando nell'allavamento biologico antibiotici e altre sostanze. Questo permette di mantenere inalterata la qualità dell'acqua nel suo stato naturale. Oltretutto mi sembra di capire che un buon uso dell'acqua conserva meglio anche il territorio perché noi abbiamo anche una grossa emergenza del territorio. Vi è appeso recentemente un pezzo di colle con queste ultime piogge? Sì, assolutamente. Un uso delle buone pratiche agricole aiutano a mantenere le esondazioni, quindi anche di acqua e come dicevo prima, avendo una miglior struttura il terreno è più forte. Su questo volevo aggiungere che l'agricoltura biologica ha ancora una caratteristica in più. Diciamo che l'agricoltura biologica viene fatta per il 70-80% nelle colline e in montagna. E cosa permette questo? Permette di regolare il deflusso delle acque. Se non ci fossero gli agricoltori che fanno un regolare deflusso di acque, noi avremo tutti gli anni delle catastrofe che stanno succedendo dove ci sono zone abbandonate. Per cui dobbiamo vedere questa antitesi che c'è, questa lotta che c'è contro la campagna. Cioè il contadino, biologico non in questo caso, è anche il tutore dell'ambiente sotto certi aspetti. Perché io lo vedo, dove ci sono terreni abbandonati, noi abbiamo frane, perennemente frane nel comune che scendono e hanno dei costi enormi. Meglio la prevenzione che curare dopo. Questa è la cosa basilare. Bene, grazie di questa preziosa testimonianza e in bocca e lupo per questa iniziativa che... Grazie. Grazie. Grazie.